una cosiddetta farmatruffa su eccessivi sbossi in materia sanitaria e l'indagine ha fatto origine dai controlli che sono stati fatti all'interno dell'ASL circa l'eccessiva dispendio di spesa pubblica derivante dalle ricette oggetto di prescrizione da parte di un medico di Castelvolturno il quale aveva generato una spesa farmaceutica pari a 808 euro di fronte a una media di 167 e quindi da questo è iniziata un'attività di indagine l'attività di indagine è stata compendiata in acquisizione di ricette in ascolto di oltre 300 assistiti in acquisizioni documentali e di questa complessa attività è messo un quadro associativo un quadro associativo in cui viene partecipi i rappresentanti, gestori, collaboratori di studi di laboratori di analisi, in particolare ci tratta di quattro laboratori di analisi che sono tutti riconducibili alla famiglia Corvino e quindi abbiamo i laboratori, sono siti alcuni a San Nicola La Strada il centro cardiologico Minerva e il centro laboratorio di analisi Minerva San Nicola La Strada altro a Galignano il laboratorio Galileo un altro laboratorio di Corvino Pasquale a Santa Maria La Fossa ma sono riconducibili alla stessa famiglia quindi in questo quadro associativo il GIF ha riconosciuto il resistenzio piccolo associativo in cui è presente il Corvino e lo schiavone Pietro in qualità di promotori e quindi il Corvino come elemento a cui si riconducono questi quattro studi lo schiavone sul stretto collaboratore poi dall'altro vi sono collaboratori degli studi procacciatori di false ricette e medici di base che hanno fatto le false prescrizioni quindi tre medici e poi ce n'era un quarto che è deceduto e poi due impiegati dell'ASL le modalità erano diverse quindi tanto la prescrizione da parte dei medici compiacenti sui nominativi di personaggi e tignari tanto la compilazione autonoma di ricette che erano stato oggetto di furto ancora un'ulteriore modalità che ha visto anche un'attività corruttiva da parte dell'ASL è la mancata richiesta di rimborsi cioè lo storno di alcune somme da quell'oggetto di rimborso quindi rispetto a delle posizioni debitori dei centri di analisi nei confronti dell'ASL non venivano addebitate tutte le somme ma alcune venivano stornate indebitamente è stato riconosciuto quindi un accredito di somme superiore a quelle devute e tutto questo provoca ovviamente un danno per la spesa sanitaria perché sappiamo che i fondi poi una volta esauriti comportano la interruzione delle prestazioni oggetto di convenzione quindi sappiamo che si arriva a tutto nell'anno in cui le somme non sono più disponibili a tutto ciò si aggiungono anche condotte relative a voto di scambio che riguardano le competizioni del 2015 e del 2016 competizione regionale del 2015 in cui era candidato il Corvino Corvino com'è? Cogliano? Pasquale nel 2016 il comunale di Caserta in cui è candidata la sorella e quindi c'era un diavai di persone di Pachidone e altro i consori si sono cacciati diciamo la benevolenza e un ampio numero di voti ci sono anche delle conversazioni in cui si dice che la sorella è riuscita a essere eletta grazie a questa attività possa essere dal fratello e queste sono le cose fondamentali c'è da dire che uno dei soggetti è stato già colpito il civillo da una misura di prevenzione di notevole spessore che è stata seguita pochi giorni addietro credo che queste siano le linee fondamentali della misura sono state date quindi in tutte misure di varia natura quindi la misura della custodia notellana in carcere per i promotori dell'associazione quindi Corvino e Schiamone Pietro nonché Martucci no, no poi ci sono i due impiegati di LASA Martucci e Abbalonga che hanno avuto anche loro la misura delle carcere e anche il Piccirillo che è quello che ho menzionato prima titolare, direttore del centro autodontoriatico che aveva possono essere le medesime condotte misura degli arresti nonciliari invece per una serie di collaboratori del Corvino e poi ancora ci sono i procacciatori di fase ricette per esami specialistici e anche questo hanno avuto gli arresti domiciliari mentre la misura interrettiva nella sospensione della professione medica per i medici convenzionati che hanno stilato le false ricette di dove sono questi medici? questi medici sono uno con studio in Alife uno studio a Santa Maria e uno studio in Piana di Monte Verna Chi è quello di Alife? Barbato e Domenico Piana di Monte Verna? Ricci con la cesta Queste sono le linee generali dell'indagine che sarà svolta con la proficuamente dalla parte di Mass che in materia di spesa di spesa sanitaria è sempre molto attenta quindi abbiamo raggiunto dei buoni rispondati c'è anche il sequestro che è stato essenzialmente il retto di sequestro del se non erro dei centri delle somme che sono state quantificate però soltanto per cui le accertavano per tutte perché non c'è rispondo quindi un sequestro per il più vale l'accento di Decares di Roma no il sequestro su quello no lì c'è una vicenda soltanto corruttiva anche riguardato c'è sempre l'immedesimo funzionario pubblico anche lì la modalità corruttiva è un po' diversa perché lì c'è stato un piano di rateizi che sono stati riuniti in un unico piano di rateizi dove in effetti c'è stato uno sfondo non sui interessi ma sui capitali di quasi 200 mila euro la sistematicità in effetti c'era un aggiustamento quotidiano in effetti dei conti della società che dovevano raggiungere necessariamente dei posti per richiedere quanti più di borsi possibili e quindi dall'attività tecnica emerge come questa attività non fosse sporadica non fosse quotidiana c'è una ricerca spasmodica di ricette per poterle spedire i danni del servizio sanitario nazionale il consigliere Corvino la sorella è indagata indagata anche lei Vardalena Vardalena Corvino è indagata anche lei l'ordinanza no l'ordinanza no l'ordinanza è indagata si qual è il ruolo del centro analisi di Almignano è uno dei centri riconoscibili a Corvino ma quali sono tutti affasciati da una benessima titolarità di fatto sono tre cose e venivano tutti i centri di Corvino cioè siamo fatte dall'STP che di BC tenuto conto cioè che la spesa era elevata ovviamente andava ripartita per tutti i centri quanti dipendenti ci sono ci sono due funzionali no quanti dipendenti di ogni centro tre quindi che ne fanno cosa succede non sono tre centri dove lavorano bisogna andare a fare le compagnie però non ha ragione alla fine amministrazione per gli altri quindi poi l'amministrazione dovrà valutare le conseguenze della misura cioè ci sarà una messa con un giudiziaro in questo caso non dipende da noi se poi l'ASL ritiene di interrompere il rapporto di accreditamento è una decisione che assume la regione quanti dipendenti e medici ASL o funzionare ASL ci stanno per voi i medici sono tre in realtà erano quattro ma uno di questi è morto proprio il primo medico che è stato oggetto di recaptazione cui faceva riferimento al procuratore che è andato in là all'indagine di Castelvolturno che è morto in effetti questa indagine ha dato già la Sura ad altro procedimento che ha coinvolto la farmacia la farmacia quella che lì ci furono gli arresti è stato il primo il medico era quello a filone quindi l'indagine quello che poi questi medici sono medici ASL sono medici convenzionati 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 cioè da una parte i due funzionari dell'ASL che avevano il compito di non stornare alcune forme e di non operare i dovuti controlli anche sul tetto della spesa sanitaria dall'altra i medici di base in che modo si sarebbe verificato l'ipotesi di scambio comunque il vuoto di scambio venivano posso venivano veniva dato denaro pacchi regalo ok cioè una cosa che comunque non rientra le ricerche immaginavo tipo che ne so i pazienti era una delle modalità diciamo di realizzazione di crimini di un gruppo che in effetti piuttosto che svolgere le mansioni per le quali erano assunti facevano incerta di ricerca e poi in periodi di diciamo di fibrillazione quelle sotto elezioni si favorivano e poi ovviamente reati di falso truffa aggravata all'animo Stato corruzione voto di scambio 430 la risultazione per le bustelle cioè per le ricette di origine di origine delittuose altrimenti perché comunque nell'altra indagine sempre sul voto di scambio quella là della DDA Corvino risultava comunque legato a soggetti vicini in qualche modo al clan per forte comunque vicini a Capone si è verificata questa cosa qua ha messo un'attività in basso clenterismo cioè monificazioni varie per ottenere i voti i rimborsi servivano anche ad alimentare proprio le nazioni in forza in vista delle elezioni questo è regionali comunali quindi serviva aumentare la sticella dei rimborsi per avere il denaro in cassa per poter fare i regali in vista delle elezioni e piazzare ovviamente le persone negli altri e poi ovviamente l'assunzione di tariche elettive serviva di maggiore rappresentatività maggiore capacità di condizionamento e quindi in maggiore favore anche i centri si rafforzava si rafforzavano i soggetti quindi anche con questa con l'assunzione c'è pensava la sua posizione politica per sfruttare questo non è però è chiaro che l'accrescimento della propria dell'acquisizione di funzioni pubbliche poteva anche ritornare utile per la propria attività qualcuno vuole attingere i militari prima di passare la parola ovviamente a chi ma veramente ha porto le indagini ho fatto a ringraziare la procura e il procuratore ovviamente chiudo per la sensibilità e la capacità con cui ci hanno coordinato in questa difficile comunque attività investigativa e mi premeva giusto evidenziare ancora una volta la capacità dell'arma nel agire finergicamente tra territoriale e la componente speciale che è quella del NAS e proprio questa finergia ci consente a volte di raggiungere questi risultati ovviamente sarebbero vani senza la sensibilità che ha l'autorità giudiziaria in determinati campi che ormai quasi quotidianamente la procura raggiunge l'agenzia delle entrate comparto sanitario in quartiere di campo laddove si configura il malaffare c'è un'attenzione veramente massima quindi ringrazio il signor procuratore per l'attenzione sapete la procura di Santa Maria è molto vicina alle tematiche della salute dei cittadini ma anche della sicurezza veterinaria visto che facciamo tantissime riunioni il dottor Orso che ha condotto non solo questa operazione anche altre anche quella che abbiamo fatto in estate a luglio e quindi con brillantissimi risultati ovviamente c'è un sostituto che ci sta sempre vicino e ci dà le indicazioni giuste per continuare a lavorare è stato detto quasi tutto forse l'unico aspetto che non è stato detto che per noi è molto fastidioso è quello della falsificazione dei certificati medici per l'attività agonistica dei bambini questa è una cosa tra virgolette forse la più grave di quella che si può trovare perché questi bambini delle scuole calcio della provincia abbiamo fatto anche dei riscontri qualche anno fa su queste indagini erano praticamente certificati per l'attività agonistica senza alcun alcuna analisi alcun controllo alcun elettrocardiogramma e quindi questo come sapete anche calciatori professionisti ogni tanto ci lasciano la vita è pericolosissimo e quindi oltre all'arricchimento che ovviamente ha la sua gravità però questo ovviamente attiene alla salute percepivano anche rimborsi per questi certificati è ovvio sì percepivano rimborsi ed erano tutti fatturati però ovviamente tutte le analisi tutti gli elettrocardiogrammi non erano assolutamente fatti come abbiamo verificato in ispezione del NAS di Napoli ovviamente per sostenere per sostenere l'accusa poi l'ipotesi investigativa e come ha detto il dottor Orso la cosa brutta è che tutti i dipendenti tutti i procacciatori come sono stati detti erano tesi non alla salute del cittadino ma erano tesi a far quadrare i conti e quindi l'attività giornaliera a 360 quadri di 24 su 24 era tesa a far quadrare i conti addirittura si facevano i conti dei giorni del mese se un mese era di 31 giorni quel mese bisognava incassare più di febbraio che magari era 28 e quindi massimizzare al massimo giorno per giorno e indirizzare i medici di base anche sulle sulle ricette da fare nel senso aspetto cardiologico analisi di laboratorio o quant'altro quindi un lavoro certosino fatto per lucrare quanto più possibile allo Stato questo è gravissimo e dobbiamo cercare di avere un freno come sapete la sanità è la maggiore spesa per lo Stato italiano e quindi bisogna comunque farci attenzione prima avete parlato di tetti quotidiani più o meno avete stimato quale era la quota più che un tecnico quotidiano nel senso c'era una ricetta spasmodica di ricette pubblicane l'importante era raggiungere determinati fatturati che avete quantificato sono milioni di euro che queste persone chiedevano quali rimborsi in realtà l'importanza del funzionare il pubblico stava proprio in questo evitare le lungaggini nella restituzione le lungaggini dell'amministrazione nella restituzione del denaro spesso loro avevano come dire un consiglio preferenziale perché in effetti i funzionari pubblici sono appunto coloro i quali erano dei contabili erano proprio gli amministrativi che materialmente andavano a realizzare i quantum che il dirigente può naturalmente sorvegliare però è molto difficile parliamo di migliaia e migliaia di ricette quindi il rapporto fiduciario che avevano con questi due funzionari pubblici che hanno fatto come dire una sorta di staffetta non l'altro all'interno di questa ne erano stipendiati da loro questi funzionari pubblici mi piacevano naturalmente non l'impropaga perché favorivano dalle indagini sono emersi due due poli il gruppo Corvino e quello Piccirillo ma dalle conversazioni francamente iniziò a pensare che non fosse le soli c'era una brutta vita un sistema funzionari regionali ce ne stanno tutto all'interno dell'astro di questa ciao